In un mondo costantemente sotto i riflettori, la famiglia Carisi ha vissuto storie che toccano l'anima, dimostrando che nessuno è al riparo dalle tempeste della vita. Oggi ci addentriamo nelle vicende che hanno segnato profondamente la vita di Albano Carisi e dei suoi cari, tra momenti di gioia indimenticabile e ombre di dolore insondabile. Nel 1994, la scomparsa misteriosa di Alinea Coisi a New Orleans ha aperto una ferita nel cuore della famiglia. Un mistero avvolto nel dolore che ha lasciato più domande che risposte. Hai mai sperimentato un dolore così profondo da cambiarti per sempre? Ma il destino aveva in serbo ulteriori prove. Yari Carisi e la compagna Nike Rivelli hanno condiviso la gioia dell'amore, ma anche il dolore lancinante della perdita di un figlio non nato. Una tragedia che ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante ogni singolo momento condiviso con i propri cari. Queste storie ci insegnano che condividere il proprio dolore può non solo aiutare a elaborarlo, ma anche a trovare una via d'uscita dal tunnel della disperazione. La famiglia Carisi, con la sua resilienza e forza, ci mostra che è possibile trovare la luce anche nei momenti più bui. Credi che parlare delle proprie sofferenze possa essere un passo verso la guarigione? La storia di Albano, Ilenia, Yari e Nike ci insegna che, nonostante tutto, la vita continua e che la speranza deve sempre essere l'ultima a morire. Prima di continuare facci sapere, la resilienza di questa famiglia ti ispira? Hai storie simili di superamento del dolore che vuoi condividere? I tuoi commenti possono essere di grande aiuto per chi sta attraversando momenti difficili. Mostra il tuo supporto con un like e iscrivendoti al nostro canale, dove esploriamo storie umane toccanti e ricche di insegnamenti. Le vicende della famiglia Carisi ci ricordano che dietro ogni sorriso può nascondersi una battaglia e che condividere le proprie esperienze può aiutarci a sentirci meno soli.